Benvenuti su Italia Gossip Express. Prima di iniziare, vi invitiamo a ricordare di lasciare un mi piace, a commentare e ad attivare la campanellina per non perdere nessuna notizia in tempo reale. Amadeus, attualmente preoccupato per una notizia scioccante su Fiorello, ricevuta di recente in redazione, condivide con voi i dettagli di questa rivelazione straordinaria. Fiorello, il celebre comico siciliano che ha affascinato il pubblico con il suo carisma e le esibizioni canore toccanti per tre decenni, si è aperto in un'intervista emozionante. Ha condiviso la sua personale battaglia contro l'ansia da prestazione, riconoscendo il sostegno fondamentale di Amadeus e sottolineando l'importanza dell'amicizia. Nonostante il suo successo travolgente, Fiorello ha ammesso che la vera felicità risiede a casa. Ha attribuito la sua forza all'autenticità e al supporto costante di Susanna, sua moglie. In un momento in cui la pressione artistica poteva essere sopraffacente, Fiorello ha rivelato che il suo show a Sanremo, suggerito da Susanna, è stato un sostegno cruciale nella sua carriera. Fiorello con la sua testimonianza dimostra che dietro ogni grande uomo ci una grande donna sottolinea l'importanza dell'autenticità e del supporto familiare nel percorrere il cammino verso la serenità e il successo. La sua storia diventa un esempio tangibile di come la connessione con la propria autenticità e l'ancoraggio familiare siano pilastri fondamentali nel mantenere l'equilibrio nella vita di un personaggio pubblico. Amadeus colto da questa rivelazione riflette sull'umanità di Fiorello portando all'attenzione del pubblico un lato più intimo del noto comico, il suo ruolo nel sostenere Fiorello durante la lotta contro elle ansia da prestazione un tributo all'importanza dell'amicizia genuina nel mondo dello spettacolo. Vi esortiamo a condividere i vostri pensieri su questa notizia e ad esprimere il vostro sostegno a Fiorello nei commenti. La storia di Fiorello ci ricorda che dietro la luccicante facciata dello spettacolo si nasconde una umanità autentica e che ogni trionfo artistico spesso accompagnato da sfide personali e momenti di vulnerabilità continuate a seguirci per ulteriori aggiornamenti e approfondimenti sulle vite dei nostri personaggi preferiti.